Qualunque ricorda mi ha 28 mila euro, c'è un po' di perdita Non c'è un cappellino, non c'è un cappellino Prese direte da cinti è molto poco, non c'è? Non c'è un cappellino, non c'è un cappellino, non c'è un cappellino C'è un cappellino, non c'è un cappellino Guarda, ecco, si può andare, si deve prendere Si deve prendere il cappellino, si deve prendere il cappellino Si può sapere anche lui sulla visita No, no, no Quali della demodizzazione di stella zia è? Sono tanti 28 mila euro per 4 euro Nessun agricoltore fa 28 mila euro per 4 euro La sega? 4 euro per 4 euro per 28 mila euro di spesso Tanti euro per ci vuole la gente No, ma un agricoltore è 2 milioni, 28 mila euro Si, la sega Ma vedete quanta sono 28 mila euro Per il cappellino, non c'è una pericola Non sanno di ettari di cipole Se 28 mila euro si guadagnano un 50 euro Ci vuole 28 ettori di tisidinato a grano, ma non è 28 ettori di tisidinato. No, ma noi pensiamo a 2.8 ettori. No, io spazzo la voce, io mi mando la prima volta e me le mando. Certamente perché... Giù ci vuoi? Giù ci vai? No, vieni Massimo. No, ci devanno anche qui, vengo, ma è già provato. Tu fate la voce, se no fate la voce, se no fate la voce. Fanno persi. Si è perso i roba. Avete provato la fila? Si è perso i roba. Ah, non tolva le schede. No. Sì, vieni che nasconde la voce. C'è non nasconde le schede voi. No, non so se ne vado che parla la materia. No, non devi stare qui. Eh? Non so se ne vado a vedere come ci riposti, ma non devi stare qui. Eh, no. Eh, no. Ma dite. Ma su tante cose. Io me ne intendo di bilanciare tutto. A me mi sa che bisogna cominciare a spingere anche qualche luce ogni tanto fino avanti. Sì. Dio Dio, io. Chi è il codice? Ah, il nostro nuovo amico. Dì dov'è? Ma noi ci sta... Ma chi è? Da Sanremo. Da Sanremo. All'idea Cati. No. E che spiega? Quando è lì? Siamo sempre in diretta dal consigliere. Ah, non c'è? No, no. Noi abbiamo iscritto un nuovo amico, siamo già a Sanremo. Noi si fanno Sanremo politica da un po'. Eh, Sanremo scena. No, non si chiedeva il Facebook, no? Si, ho visto. Ah, sì. Ma tu sei il nostro amico qui? No. Diventa, eh. Ma ci sei. Non ce l'ho nemmeno con me. Ah, allora. Lo sa, mi lavoravo tutti i giorni a lavorare qui. e... ...dò non ce l'hanno. Lavoravo a Martignano, all'ascasare. Ma che è questo che vuoi dire? Martignano, all'ascasare? Ah, c'è una cosa, dolci, un po' qui. All'ascasare? Davanti a Casare. Ma che è questo? Io sono in via Pro. Ma un'altra basella? Si. E chi è questa che è Drescia? Chi c'ha scritto? Med, med, med? Ma come lei la tu? Questa è lì, passata in meglio, è bello finito. A Montelupo la PDL ti ha organizzato bene, è organizzata bene. E' il mio amico, il primo signore era mio amico. Sono anche i nostri amici sul fesco. Sì, no, lo so, ma nei paesi c'è proprio questo. La sua sorella è innamorata di me, che è un bambino, il primo. Insegna io per fare Forza Italia a Montelupo, ai primi. E' un gentile. Siamo in attesa della votazione. E' il vicepresidente del Consiglio. E ci fanno il consenso. Io ho fatto un po' di sito, aveva parlato di missioni della Pondella. E' un po' apposta. 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 Io non capisco. Io non capisco davvero. Non mi sembra se non si discuteva le missioni con loro. No, perché l'ha già discusso loro, ma l'ha già discusso loro. Non ho mai discusso loro, ma l'emozione è tipo spontanea. Sì, vabbè, parliamo di noi. Lui non poteva andare a questa internazione. Perché magari il sindaco aveva parlato dall'inizio. Che poi si fa una dichiarazione a questa internazione. Se si può fare una dichiarazione, Ma siccome c'è una porzione, ... ... ... ... No, 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 aspetta un po'. La mia nipote La mia nipote Ma quello di anche io è buona La mia nipote La mia nipote Ciao, ciao. Abbiamo partecipato, per maggioranza, a votare con sia viceversa. Ci è stato, quindi non c'è stato, nessun tipo di accordo. Nei cinque anni fa l'ora, facciamo una volta da fuori, non solamente a ripetere l'accordo, perché dovevamo mettere una proposta, perché qui semplicemente oggi noi ripercorriamo la sala dei cinque anni fa. Non esperiamo nessun tipo di indicazione e quindi ci asteniamo dalla votazione sulla vicepresidenza. Anche noi siamo d'accordo perché la maestra dei diretti è importante, per cui non è da sottolotare, mentre siamo assolutamente consapevoli e convinti che sia la conclusione del Consiglio sia stata assolutamente generale in questi cinque anni. E come sono successe semplicemente delle problematiche che sono normali in un consenso di cinque anni. Niente di più, niente di meno. Anche rispetto a quello che diceva da conoscente sulla provocazione delle commissioni, mi ricordo a mente almeno quattro o cinque volte in cui le commissioni sono state conformate sull'invito del Consiglio, su singole versioni. Quindi non è che le commissioni si sono riunite esclusivamente in funzione di quanto voleva da raggiungere. Anzi, l'ultima volta mi sembrava, mi fa le sere, mi fa le sere, per esempio, sei un buon testimone, dalle sere alle otto e mezzo, mi risposta a un'interrogazione, non della maggioranza, ma sicuramente dei gruppi transenziali della maggioranza e opposizione. Per cui credo di poter anche qui affermare...